we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video che sono xyuder e ragazzi sfida nuovissima di fai centro in centro quella che ci chiede di trovare john c jones nelle fogne come vedete ragazzi ho appena passato i due camion del cibo dobbiamo rallentare perché quel tombino è proprio quello che ci serve per recuperare la sagoma di john c quindi molto lentamente ci entriamo seguiamo esattamente il percorso sarebbe bello se riusciste a frenare ragazzi perché proprio in fondo a questo corridoio è difficile farvelo vedere perché sapete ci dà la spinta eccolo lì dietro la grata ragazzi dietro la grata che abbiamo appena passato c'è john c jones non è un problema se non vi fermate perché comunque la sfida vi viene contata ugualmente quindi mi raccomando compitela 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 per guadagnare lo spray goat io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 live ciao